Ragazzi, sono seriamente preoccupato per gli uomini che non hanno mai visto una donna. Guardate come siamo messi, eh? Guardate bene questo video che ora vi faccio partire. Perché è allucinante. E' un po' che vestono le donna. E' un po' che è 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 un po'. Quando le donne decidono ormai quello che vogliano e c'è pieno di meritrici.